Un tempio protestante valdese, una sinagoga, una chiesa cattolica, una chiesa ortodossa e una moschea. Tutto in meno di un chilometro quadrato, in un quartiere, San Salvario a Torino, probabilmente unico per questa caratteristica, sicuramente uno tra i più multietnici e pacifici al mondo. Questo è il quadro scelto dall'Organizzazione di Torino Spiritualità, giunta la decima edizione, per la prima Notte Bianca della Spiritualità. Un evento che, iniziato al Tempio Valdese di Corso Vittorio, ha coinvolto, con discussioni, concerti e attività, le sedi delle più importanti religioni monoteistiche del pianeta. Il programma è stato molto denso e fito di iniziative per esplorare in senso laico il significato della spiritualità visto dalle diverse confessioni religiose. Al Tempio Valdese si è presentata la ricchezza e la varietà della spiritualità protestante, con canti corali, animazione musicale, brani pianistici e interventi di altre confessioni riformate e non. Davanti alla sinagoga molte persone si sono messe in coda per una visita guidata al luogo sacro dell'ebraismo torinese. A pochi metri di distanza, in largo saluzzo, nella chiesa cattolica dei Santi Pietro e Paolo, il concerto del Torino Vocal Ensemble, presente anche nella colonna sonora del film premio Oscar La Grande Bellezza, ha incantato i presenti. Ancora qualche metro più in là, nella moschea di Via Saluzzo 18, la sezione torinese dei giovani musulmani d'Italia ha proposto riflessioni sui passi del Corano e l'iniziativa Un Tè al Gusto di Pace, molto partecipata per promuovere una migliore conoscenza della realtà arabo-islamica. Abbiamo partecipato perché comunque è un evento che riguarda Torino e riguarda la città di Torino e noi come parte integrante ormai di Torino ci sentiamo il dovere di far parte di questo evento e ovviamente che ci piacerebbe partecipare ogni anno, abbiamo ci riparto l'anno scorso e quest'anno è la terza volta che ci partecipano quest'anno e ci piace farlo. Cosa avete organizzato questa sera? Questa sera c'è la Notte Bianca, ossia l'evento che abbiamo organizzato come Gemmi, o Giovanni Sommo d'Italia, abbiamo organizzato il Tè al Gusto di Pace, ossia sapendo comunque la situazione internazionale del quale si parla comunque di guerra e di tutto quanto, abbiamo pensato che sia l'occasione di aprire una finestra di dialogo, una finestra di riconoscerci e abbiamo scelto questa sera appunto per questo scopo, per riconoscerci. E in base a questo abbiamo organizzato il nostro evento oggi stasera della Notte Bianca. Il particolare contesto della location San Salvario, centro della movida torinese giovanile, si è così mischiata al folto pubblico di Torino Spiritualità. Conoscete Torino Spiritualità? Sì, sono dieci anni che ci vado. Come mai ci viene? Perché si può ascoltare delle relazioni sempre molto interessanti, stimolanti, a volte può essere in sintonia con quello che uno pensa, oppure no, ma è sempre stimolante perché fa riflettere. Siamo con una giovane qui nel cuore della movida torinese, però c'è anche la Notte Bianca di Torino Spiritualità. Lei che cosa sceglie tra le due? Ma io assolutamente Torino Spiritualità, perché come potete vedere questa sera è un buonissimo connubio tra le due cose, quindi direi che è una bellissima serata. E c'è stato qualche appuntamento, qualche evento? Ma è stato un amico oggi pomeriggio, un evento, che mi ha detto bellissimo, io purtroppo non ho potuto partecipare, però sono qua stasera a questo concerto e mi sto divertendo molto. Adesso segue la Notte della Paranza del Geco e i balli del Sud? Sì, sì, mi lancio nelle danze, sì, sì. In tutto il quartiere di San Salvario gli eventi sono stati molti altri e hanno coinvolto numerosissime persone. Un primo esperimento di Notte Bianca Spirituale sicuramente riuscito. Grazie a tutti.